Mico, in quest'ora, mi ha informato che Graziano si è fatto addirittura anticipare lo stipendio per pagare quel ricattatore. Questo prova che non ha nessuno alle spalle. Sì, ma che cosa aveva in mente? Un ricatto? O era terrorizzato da ombre di nemici sconosciuti? A questo punto non è più importante saperlo. Ha già scelto il cinema? Ho due possibilità. Vado subito a fare un sopralluogo per scegliere il più adatto. Pochi spettatori. È essenziale. Lei ha avuto un'idea veramente perfetta. Gli agenti cadono al fianco dei loro magistrati. Perciò il fatto deve accadere mentre siamo insieme. I giornali devono uscire con i titoli, così. Nuovo attentato contro un giudice. E sotto in piccolo, l'agente di scorta vittima della sparatoria. Sono sicuro che il generale approverà che quell'uomo esca di scena così, come per caso. Però Graziano è capace di indossare il giubbotto antiproiettile. Avvisi l'amico di Hamburgo di tirare alla testa. Tirano sempre alla testa. E per l'identificazione? Tutto a posto. Abbiamo la fotografia. Si ricordi di telefonare al nostro amico di Hamburgo non appena avrà scelto il cinema. Lei ha il messaggero di oggi? Certo. Gli legga le prime due parole del titolo di apertura, per farsi riconoscere. E adesso impari a memoria questo numero. 34 77 27 34 77 27 25 35 77 Grazie a tutti. Metti in moto e vada via. Forza, forza. Chi sei? Dai, dai, che lo sai chi sono. Colonnello Urwitz. Metti in moto e vai via. Forza, forza. Vai via. Scendi. Vieni qua. Mettiti lì, mettiti lì. Stai calmo. Ecco, spiegami questo. Perché? Perché non mi avete lasciato in pace? Stai calmo. Io non ho legami politici, hai capito? Non commettere altri errori. Ragioniamo. E se tu parlavi... Se tu parlavi con il giudice Moser a Piazza Capraia, invece di metterti a ricattare senza avere niente in mano... E chi te lo dice? Dai, ti saresti di volta ai giornali che contano, no? Nel caso, quanto avresti voluto chiedere? Io, io non avrei voluto chiedere niente. Ah, è così? Vada, io avrei chiesto soltanto questo. Di essere lasciato in pace. Hai capito? Capisco. Hai avuto paura. Ma la colpa è anche la tua. Quando ci fai credere di essere contro di noi. Invece io penso, perché conoscere gli uomini è il mio mestiere, che tu, tu potresti essere uno dei nostri. Eh? Dico che tu potresti essere dei nostri, sì, sì. Certo, avrei potuto essere dei vostri. Anzi, sono sicuro che tu sei dei nostri. Tu sei proprio dei nostri. Sì, sì, e allora? Eh, però, vorremmo una garanzia. E quale garanzia? Chi altro sa della faccenda? Beh, nessuno. Neanche la tua ragazza? No, no, nemmeno la mia ragazza. Mi fido. Non so perché, ma mi fido. E allora? Parliamo. Discutiamo, ci vediamo e sistemiamo tutto. Ma parli sul serio? Sì, sì, nel mio ufficio. E andiamo adesso nel tuo ufficio? Domani. Domani mattina nel tuo ufficio? Ti va bene? Che peccato. Peccato? Peccato, sì, che tu non mi abbia parlato di quel tuo amico hamburghese che non mi lascerà arrivare fino a domani mattina. L'amico di Hamburgo? Guarda, ma io ti giuro che non ho mai voluto ammazzare una persona. Ma io stavo per parlartene. No, tu sei una carogna. Carogna, tu e quell'altro, due, carogna, due. La fotografia. Grazie. Grazie. Grazie.